Presidente, il canottaggio è sempre più presente nell'attività del club nautico Vivani del Lido di Fano. Che cosa si prospetta per questa fine settimana? Sì, abbiamo l'evento conclusivo di un progetto europeo a cui il club nautico ha partecipato dalla durata di un anno. Diciamo che questa è la ciliegina sulla torta di un progetto che ha nella biodiversità, nell'ecologia marina, nel gender balance e quindi nel coinvolgimento delle persone di tutte le età, uomini e donne, l'evento conclusivo. Avremo due giorni di regate, di canottaggio nelle due specialità previste in mare, quindi in endurance e in beach sprint e con la cornice bellissima della Darsena Borghese venerdì 4 ottobre con quella che sarà la cerimonia di apertura, la presenza delle teorità dove sfileranno e verranno presentati gli occupaggi che parteciperanno da tutta Europa. Qua sono sei nazioni partecipanti. E qualche ora sarà questa presentazione? La cerimonia di apertura sarà alle 17 alla Darsena Borghese e poi le gare saranno sabato mattina e domenica mattina alla sede del club nautico al Lido di Fano. Tempo permettendo. Se abbiamo delle alternative, se c'è l'onda che non ci permetterà l'uscita delle imbarcazioni, abbiamo la possibilità di spostare i campi di regata nella zona di Sassonia, all'interno delle scogliere di Sassonia. Abbiamo chiesto anche quell'area perché le previsioni non erano proprio rose e allora abbiamo chiesto un'area di riserva per poter comunque portare a termine questo evento. Un bellissimo evento sportivo, una bellissima competizione che richiama Fano a gareggiare squadre da tutta Europa, un'organizzazione fantastica preparata dal club nautico fanese e sicuramente anche un momento di turismo perché ci saranno circa un centinaio appunto di persone, di atleti e dell'organizzazione che saranno nella nostra città e potranno apprezzarne ovviamente non solo la parte sportiva e turistica ma anche tutti gli elementi storici e culturali che fanno parte della nostra città. Quindi veramente un grazie al club per aver organizzato, aver pensato di fare una città di Fano questa competizione. Noi ci siamo messi a disposizione con le nostre strutture, anche la cerimonia d'apertura ad Arsena credo che sarà molto coinvolgente quindi l'invito è a chi può partecipare venerdì alle 17 alla cerimonia di apertura e poi di seguire le gare ovviamente in zona Lido.